The Last Supper o L'Ultima Cena creò durante il 1495 e finì durante il 1498. Il quadro si trova nella Santa Maria delle Grazie. Leonardo da Vinci nacque nel 1452 e morì nel 1519. Leonardo da Vinci fu una disegnatore, pittore, ingegnera, inventore e scienziato. Lui studiò anatomia perché fu curioso riguardo al corpo umano. Lui creò legame tra scienza e matematica quando disegnò l'opera d'arte. Da Vinci scrisse molti libri di schizzo per tutti l'idea. Lui dipinse L'Ottima Cena per Ludovico Sforza. L'Ottima Cena ha molti simboli. Ci sono il numero tre e l'oppostale Judas. Il numero tre rappresenta Holy Trinity o Santissima Trinità, che significa the Father, Son, and the Holy Spirit. Nel quadro, Jesus saluta gli apostoli con gli suoi bracchi aperti. Lui fa la forma di un triangolo con tre lato. Inoltre, gli apostoli fanno quattro gruppi di tre con Jesus da solo. Dietro a Jesus ci sono tre finestre, un simbolo di Santissima Trinità. Nel libro di schizzo, lui disegnò le facce di apostoli. Anche, nel Bibbia, questo schiena di L'Ottima Cena mostra. Judas vuole Jesus morire. Lui è non nelle luci di Jesus perché lui è ombra. John e Peter vedono luminoso. Tutti i apostoli hanno aureola, ma Judas è senza una aureola. Che significa Judas è non santo. Judas rovescia il sale nel quadro. Questo simbolo è tradimento o betrayal. Lui ha i soldi perché lui ha pagato tradimento Jesus nel Bibbia. Ormai, Leonardo da Vinci creò l'Ottima Cena e mise Santissima Trinità e Judas. Molte persone ammirano il quadro oggi. Molte persone ammirano il quadro oggi.